Parto subito col dire che questa è la mia opinione, nel senso che questa è la mia opinione maturata dall'esperienza di gioco che ho avuto io e quindi non sono qui a dare una verità universale, cioè per me questi giochi sono i peggiori del brand ma perché io li ho vissuti in un certo modo, voglio chiedervi adesso di scrivere qui sotto nei commenti la vostra esperienza con questi giochi perché non è detto che la mia esperienza sia l'unica possibile e siccome stiamo parlando di opinioni e non voglio mettermi qui a decantare la verità assoluta, è giusto che ci siano dei dibattiti su questo gioco io per ora su YouTube ho visto solo due tipologie di video su questo gioco la recensione positiva di solito e il video sfogo, cioè il video dell'hater, hater dei giochi stessi, non del mondo Pokémon chiaramente che spala la merda sui giochi senza però dare una motivazione seria, capite? senza dare al suo parere negativo un fondamento ecco io invece voglio fare questo, cioè sulla base della mia esperienza di gioco voglio spiegarvi perché sono arrivato alla conclusione che questi per me siano i peggiori giochi Pokémon voglio raccontarvi la mia esperienza con questi titoli perché così si può aprire un confronto magari la mia esperienza non è la vostra magari vi fa cambiare opinione, magari invece sarete voi a farla cambiare a me detto ciò, vi racconterò la mia esperienza senza ovviamente negare tutti quei lati positivi che Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee introducono i Pokémon e l'overworld, il sistema delle caramelle di cui parlerò in altri video probabilmente che secondo me a livello di trama dà una libertà fantastica e ho apprezzato tantissimo la distribuzione dell'esperienza con il condivido esperienza automatico che non ti overlevela troppo ti permette di avere più Pokémon insomma, ce ne sono tante di cose positive di questo gioco ne parleremo, ci saranno altre occasioni oggi voglio parlare però di quelle tre meccaniche ma neanche meccaniche quei tre aspetti che fanno da contorno al gioco che hanno rovinato o comunque compromesso irrimediabilmente soprattutto l'ultimo che vi dirò la mia esperienza su questi titoli la prima, che è anche la meno importante tutto sommato è la grafica voi mi direte cavolo, come è la grafica? la grafica dovrebbe essere un punto di forza di questo gioco? allora io come vi ho detto prima sostengo sempre di avere un mio parere personale che non è necessariamente il vostro però secondo me qui stiamo parlando di un fattore oggettivo cioè la grafica di Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee oltre a essere medio-bassa per la Switch ma questo non è un problema è comunque una grafica esteticamente godibile ma signori non c'è interazione con il resto del mondo mi spiego un attimo meglio io per farvi un esempio in cima alla torre Pokémon ho voluto interagire con il sarcofago gigantesco davanti al quale pregava Mr. Fuji e secondo me è impossibile che non ci fosse un'interazione con quel sarcofago vai in giro per la regione ci sono le panchine non puoi sederti sulle panchine e pensare che è da Pokémon X e Y quindi dal 2013 che l'interazione col mondo circostante rende la tua avventura Pokémon migliore ora mi chiedo perché non si è voluto aggiungere al fattore estetico della grafica perché esteticamente ci siamo tutti non è brutta esteticamente anzi è molto bella i dettagli sono ben curati ma sono curati in superficie poi dopo dietro cioè tu hai il poster fantastico che ti ricorda il primo gioco e non ci puoi neanche interagire e finché è il poster posso capirlo ma quando è tutto il mondo cioè è tutto il mondo tu nella regione di canto di Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee puoi interagire con tre cose le persone gli alberelli per usare taglio e i Pokémon escludendo i Pokémon che sono la feature principale e che oggi hanno verato tra le cose positive il resto della regione è praticamente alienante cioè tu sei in un mondo e non puoi interagire con il resto del mondo ora è bella una grafica di questo tipo? certo è bella la vedi e dici wow e poi? cioè com'è possibile che si sia fatto un salto indietro dal 2013 dall'interazione dall'ambientazione e dal posto importante che occupavi nel gioco a essere boh in un mondo alienante completamente cioè puoi interagire con pochissime cose secondo me una grafica di questo tipo nel 2018 quasi 2019 non è una bella grafica anzi è una grafica pessima da questo punto di vista in pokemon x e y tu camminavi per strada e vedevi la strada che magari interagiva con te cioè vedevi i i fletching che volavano in pokemon let's go pikachu no cioè in pokemon let's go pikachu il mondo la regione di canto è impassibile al tuo passaggio non ti dice niente ci sono le cutscene e le cutscene ragazzi muoiono cioè sono belle esteticamente ma finisce la cutscene ed è ed è cringe perché è come se si interrompesse nel mezzo e e non ha un senso logico e non quadra all'interno del gioco cioè pokemon nero e bianco la cutscene dove reshiram arriva dietro a n e si posa davanti a te quella è una cutscene che crea continuità con la trama le cutscene di let's go pikachu let's go ivy sono messe lì a caso e allora la grafica sarà anche bella esteticamente ma è curata solo superficialmente cosa voglio dire voglio dire che il professor rock mi consegna i pokédex e ha le mani vuote voglio dire che gli strumenti in overworld sono ancora dentro le pokeball voglio dire che non posso sedermi con le panchine voglio dire che vivo in un mondo alienante questo è il difetto della grafica di let's go pikachu let's go ivy oltre a un altro grandissimo difetto che è canto perché non è tanto canto il problema è come è stata riproposta cioè è stata riproposta a tileset quadrati ora io dico no ma vuoi rifare il remake di canto per la quarantesima volta e a me fa schifo il concetto di remake cioè io non sono una persona nostalgica anzi tutt'altro però può andar bene ma dico io hai la potenzialità di switch fai una canto più ampia rimodellala come hai fatto con la oen di pokemon rubin omega e zaffiro alpha eri tra l'altro su una console molto più debole perché non si è provato a fare questa cosa la risposta secondo me è che non si è voluto non si è voluto provare perché c'erano le potenzialità zelda lo dimostra potevi non fare magari un accanto open world ma potevi cercare di renderla una regione più aperta con più spazi e questo avrebbe dato un senso all'altra grande caratteristica grafica usannata che sono i pokemon che ti accompagnano perché signori è una grandissima cosa ma se poi io devo assistere al mio whipping bell che si incastra nelle siepi perché non c'è spazio per passare se io devo assistere al mio pokemon che ritorna nella pokemon ogni 2x3 perché non hai voluto fare una regione più grande più spaziosa non so per quale motivo sinceramente mi girano i coglioni perché è una bella cosa mettere i pokemon che ti accompagnano ma se li metti in un ambiente di merda se li metti in un ambiente in cui geridos deve fare surf in una pozzetta d'acqua capite bene che non ha senso così e mi dà fastidio non per chissà cosa ma perché si poteva fare cioè non è un problema tecnico della capacità della switch che dici vabbè ci hanno provato no no si poteva fare non l'hanno fatto questo è il problema tutte queste cose che ho detto si potevano fare tranquillamente siamo tutti d'accordo avrebbero reso il gioco migliore e non si sono volute fare non so per quale motivo non so se è per la nostalgia non ne ho idea ma non le hanno fatte e a me questa cosa non è andata mi ha rovinato un sacco l'esplorazione mi ha davvero deluso ma come vi dicevo è la prima cosa che mi è saltata all'occhio non di certo la più importante non di certo quella per cui oggi sono qui a dire che Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee sono per me i peggiori giochi del brand non è neanche la seconda in realtà che però è un attimino più grave nel senso che è più legata alle meccaniche del gioco sto parlando udite udite della meccanica di Pokémon GO cioè nel senso fatemi spiegare funziona è molto interessante la cattura interattiva deve essere il futuro per quanto mi riguarda io non sono favorevole a chi dice no manteniamo la serie di Let's Go per i bambini e per noi manteniamo i giochi classici che cazzo stiamo dicendo Let's Go ha delle funzionalità e delle peculiarità che devono essere riproposte da qui al futuro nei giochi Pokémon finché non se ne trovano altri migliori non esiste che Let's Go sia un binario e la serie principale sia un altro devono cercare di mischiarsi per creare qualcosa di buono la meccanica funziona se è astratta dal contesto del gioco ma che senso ha che io devo fare esperienza catturando solo Pokémon cioè è come se io dovessi fare dovessi allenare il mio cane per una per una competizione di cani e per allenarlo vado a comprare un altro cane capite che è surreale la cosa io non sono un maniaco dell'iperrealismo cioè siamo comunque nel mondo Pokémon e guadagnare l'esperienza con la cattura è sempre esistito ma non puoi abolire tutto e lasciare che l'esperienza si guadagni così cioè è una cosa che non sta né in cielo né in terra è una forzatura la meccanica di Pokémon Go è bella ma inserita in questo contesto in questa maniera è forzata e allora cosa succede? succede che in una regione che comunque ha dei livelli alti per grindare per aumentare di livello devi andare a catturare Pokémon è una cosa che non ha senso allora io dico bilancia la cosa o ancora meglio permettimi di affrontare i Pokémon selvatici magari aggiungi delle peculiarità ad esempio lo butti in un colpo guadagni più esperienza insomma fai la stessa cosa delle combo di cattura ma le fai con delle cose che devi fare in battaglia mossa super efficace guadagni più esperienza le sto buttando lì sono idee che mi stanno venendo adesso sia chiaro perché non sei voluto fare? il gioco è surreale così ma davvero surreale perché hai bisogno di grindare per grindare fai una cosa che non sta né in cielo né in terra non funziona e non stiamo qui a raccontarci le barzellette cioè Let's Go non è uno spin-off possono anche dire che è uno spin-off cioè per me Satoshi Tajiri domani può uscirse dicendo guardate Earth Gold era uno spin-off ma la percezione che si ha di questi giochi è quella che è cioè questi giochi sono percepiti come giochi ufficiali dire no ma questo è uno spin-off vuol dire per quanto mi riguarda dire già a prescindere che questo gioco non merita che non vale 60 euro per inciso per me Let's Go non vale 60 euro non rispenderei mai 60 euro per questo gioco fatta questa parentesi passiamo all'ultima cosa cioè abbiamo passato la grafica abbiamo passato la meccanica di Pokémon Go forzata che secondo me rovina un po' ma è comunque una meccanica che puoi scegliere o non scegliere insomma non è non incide così tanto si possono chiudere gli occhi quello che davvero ha rovinato la mia avventura e ha rovinato soprattutto tutte quelle bellissime feature che il gioco ha è quello che io ho soprannominato il potere degli amici mi spiego meglio per chi non mi segue su Instagram e per chi non è dentro il mio gruppo Telegram da qui tra l'altro vi invito a passare il potere degli amici è quella funzionalità per cui il tuo Pokémon si autocura si cura la paralisi si cura il veleno fa brutti colpi random schiva le mosse random per ora non ho rinvenuto altri effetti fortunatamente tra l'altro ora io dico questa cosa c'era in Ultra Solo Ultraluna io lo ripeterò sempre è sacro santo ma è sacro santo davvero che un bambino o comunque chiunque possa e abbia l'opportunità di rendere il suo gioco più facile io sono a favore della libertà nella trama perché tutti hanno il diritto che sia così ma io dico perché me lo imponi perché me l'hai imposto io ho fatto degli esperimenti all'interno del gioco cioè ho portato a spasso Butterfree non ho portato a spasso Clefable ho dato più caramelle a Butterfree non ne ho date a Clefable ho fatto sì che certi miei Pokémon non avessero alcun motivo di amarmi a tal punto da sviluppare quella meccanica che c'era già in Ultra Solo Ultraluna e sapete che cos'è successo? è successo che contro Lens il mio Clefable ha schivato udite udite sei attacchi di Lens senza che io potessi scegliere in nessun modo nel corso della trama che lo facesse o meno e allora io dico hai gestito bene la curvatura d'esperienza dello starter che non è così forte come alcuni dicono è forte all'inizio le prime tre palestre sì perché con un Pokémon è voluto allo stadio finale ma poi si sistema hai trattato bene quello hai trattato bene la cosa delle caramelle perché mi hai fatto scegliere se rendere il mio Pokémon più forte o non più forte hai gestito bene il leveling hai gestito bene la curvatura dell'esperienza hai gestito bene il condivido esperienza hai gestito bene tutto e poi cosa devo assistere? devo assistere contro il campione che il mio Butterfree si soffia ragazzi si soffia sul braccio per curarsi la scottatura stiamo scherzando cioè hai fatto tutto in maniera perfetta e poi metti questa cosa qua signori è una barzelletta è una presa per il culo rovina tutto rovina tutto cioè rovina tutte quelle bellissime funzionalità che potevano rendere l'avventura interessante le caramelle mi hanno permesso di portare Butterfree alla Lega di renderlo competitivo io sono amareggiato e sono molto do molta enfasi a quello che dico proprio perché sono amareggiato ma sono amareggiato perché Let's Go non si meritava questo non se lo meritava aveva delle bellissime potenzialità ad a ha non aveva ha delle grandi grandi features rovinate rovinate da una competitività che grazie a questa cosa va sotto zero ora io non so se è perché sono forte io nella trama e non ho mai perso mai perso ma è così che mi ricompensi? facendo sì che i miei Pokémon schivino le mosse? signori la competitività del gioco così mi è andata a puttane questa è la mia esperienza io sono stato ho apprezzato le curvature di leveling e poi mi sono visto questa cosa vi giuro che ho avuto una crisi di nervi contro Lance il campione l'ho battuto premendo A perché volevo semplicemente finire il gioco è stata la mia peggiore esperienza videoludica non di Pokémon videoludica la peggiore esperienza mi dispiace mi dispiace non per me ma per il gioco perché secondo me non se lo meritava non si meritava questo trattamento dopo tutto quello che di buono aveva comunque mostrato è per questo che per me è il gioco peggiore let's go Pikachu let's go Eevee perché da questo punto di vista è stato gestito col culo è una barzelletta è una barzelletta ora io non so se questa è la mia esperienza o se è l'esperienza di tutti non lo so però quello che so è che io non ho potuto scegliere sono stato costretto a vedere i miei Pokémon vincere a prescindere a prescindere il fatto di fare strategie il fatto di cercare di predictare l'avversario si è rivelato inutile perché vincevo comunque un gioco che si basa sul diventare campioni della Lega che ti impedisce di avere una certa una qualsiasi sfida non stiamo parlando di facilità cioè X e Y erano facili questi giochi qua non hanno difficoltà tu vinci almeno io ho vinto a prescindere senza neanche tuvermi impegnare lontanamente e quando ci provavo il risultato cos'era? che ci rimanevo male perché tanto le mie strategie non servivano a niente perché magari il mio Pokémon sopravviveva all'attacco questo è il motivo per cui odio questi giochi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi fatemi sapere soprattutto quali sono state le vostre esperienze perché vi ripeto tutto ciò si basa sulla mia esperienza non è detto che sia la vostra quello che vi posso dire è che io non ho scelto nulla di quello che ho vissuto e che mi è stato imposto dal gioco per questo io reputo questi giochi peggiori e se mi commenterete insultandomi perché ho attaccato il vostro gioco preferito o comunque perché non siete in grado di analizzare criticamente quello che dico cazzi mostri non siete in grado di analizzare non siete in grado di analizzare non siete in grado di analizzare